E eccoci ragazzi benvenuti subito in questo nuovissimo video E fino da pochi minuti di sorteggio della Juventus per il bianconeri Oggi è andato benissimo, anche se io volevo beccare subito il Real Madrid Abbiamo beccato nelle semifinali il Monaco E la rivelazione della Champions League Che cazzo non poteva mai dire che il Monaco andava a finire in semifinale Comunque diciamo che ci andava benissimo Poi l'altra semifinale sarà il Debi Spagnolo, Real Madrid, Atletico Madrid Io dico quest'anno che è l'anno della Juventus L'anno della rivelazione della Juventus, un serlo credo Perché sono fiducioso Perché credo anche se il Monaco gioca molto bene Però fa un calcio molto rognoso Fa un calcio come quello dell'Atletico che non ti fa giocare E c'era meglio beccare subito il Real Madrid Ma comunque il Monaco ci va bene, ci va bene il Monaco Minchia, la prima mattina sarà giocata in casa loro Perciò l'altra prima prima del Debi Spagnolo Il Bluoganes si giocherà il 2 maggio E il 9-10 maggio il ritorno Baccellona in semifinale E poi si giocherà la casa di andata nel principale di Monaco La casa di andata sarà giocata nel principale di Monaco Lo sto vedendo sul televideo non c'ero perché io non stavo lavorando Ma sono scoppa subito per vedere questa semifinale E c'è andata purtroppo benissimo, benissimo E ciò ora aspettiamo il 3 maggio Al Monaco Al principale di Monaco Al principale di Monaco Per giocare la semifinale Contro il Monaco Speriamo sia l'anno buono per noi ragazzi Speriamo sia l'anno veramente buono per noi Questo contro i Gufi dell'Inter E dei Milanisti di merda Che ci davano Speriamo E la finalissima, se tutto va bene sai, il 3 giorno a Cardiff Ragazzi, sempre solo forza Juventus Ricordiamo, ci aspettiamo il 3 maggio per Monaco Juventus Il principale di Monaco Salve, ciao